Peccato che uscirà, l'unica che non uscirà grazie a Dio è quella dei cremoni. Quindi secondo te le canzoni da domenica sono tutte e due? Come viene? Esce. Non c'è più tempo lo so. Ah no è vero perché c'è anche il duetto però. Non uscirà nulla. Buon appetito. Non uscirà sta settimana. Noi siamo messi un po' meglio rispetto alla punta scorsa. Insomma, ma data una frase adesso potrei uscire. Non parto più? Che buone signorchetti. Sì, quella che non parto più. Sono un buffone anch'io? Per te fatta, gliel'ho detto io per te fattissima. No no. Peccato, questo quando fa... Sergente, soldato sei un buffone? No signore, peccato perché io lo sono. No, peccato perché io lo sono. Mi giro, sono un buffone anch'io. Il silenzio del mio cuore impaurito mi ripete segretamente e fai l'amore non la guerra e per questo non partiremo per il Vietnam. No, il silenzio del mio cuore impaurito... Stiamo a sentire il silenzio del mio cuore impaurito. Quando l'ho letto hai fatto... No, questo cioè... No. Sono un buffone anch'io. Il silenzio del mio cuore impaurito mi ripete segretamente. Basterebbe il mio cuore mi dice fai l'amore non la guerra a sto punto. No, ma poi sono un buffone anch'io e il silenzio del mio cuore impaurito mi ripete segretamente. Il senso perché io ho detto... Cioè, immaginitene tu anche io, no? Come faccio a ritrovare il senso della frase? Sto così. No signore, sì signore, no signore! Sei buffone? No signore! Peccato perché io lo sono! Un silenzio. Sono un buffone anch'io, il silenzio del mio cuore impaurito? Sì. No, non la dire tratta. Se stona un po'. Di il mio cuore. Ma ha detto anche lui, infatti poi la vediamo insieme. Di tipo il mio cuore mi dice. Bella questa. Fai la buona la guerra. Bella questa. Entrano i ballerini che spogliano Federico dalla divisa lasciandolo con jeans e costume dai piedi. Ma sta prova con questi costumi la dobbiamo? Grazie. La dobbiamo pure fare. Sono un buffone anch'io. E sai che ti dico? Che il silenzio del mio cuore impaurito. Che il silenzio! No per me tanto io non la voglio. Che il silenzio. Puoi portare l'aceto giù giù? Lisa. Federico, ti ammazzo, ti sei mangiato tutte le... Che ne? Le maionese. No, io solo una stamattina ho mangiato di maionese. Corsera, l'ultimo. Dai che vuoi. Fede. Sai cosa dico? L'aceto per favore. Bene. In testa, sul costo oppure su... Nelle mutande. Semplici un po' panare. Mi interessa il sale nel frattempo. Certo. Desiderano qualcos'altro. Cosa desiderate? Mi interessa anche un po' di maionese. Adesso te la portavo. Ma mi sembra proprio. E il mio cuore mi ripete segretamente e fai l'amore e non la guerra e poi braggio le onna. E là ci metteremo sicuramente tutti a piangere. Per questo non partiremo per il Vietnam. Uno, due. Grazie Giulia. Figuratevi. Allora, per il coperto sono 1,50 euro a testa. Minchia. Può dire che se non partivo... Alla faccia del coperto. Beh, a Padova non è che ti discosti tanto. Cura a Roma. Sparato, manca a Catania. A Catania va da... Sì, fino ai 2 euro ci arriva anche 3 il coperto. Poi dipende ovviamente da dove va. Che ti hanno detto a fine prove? Che oggi pomeriggio torniamo? Mi sembra proprio di sì. Devo provare l'inedito. Dovemmo fare i pezzi di squadra. Io non ho provato un cazzo di danza. L'inedito ci proverò domenica. Ma l'inedito tu quando lo fai? Sabato. Non sabato. Ah no, è vero. Se non lo dovremmo anche provare. Che scema. Scusate, ma domani che secola facciamo? Che non l'abbiamo cambiata, non mollare mai. Non l'abbiamo cambiata? No, senza bambi. O forse partiamo direttamente senza sigla. Domani mattina. Forse lo faremo domani mattina oppure oggi. Dopo le prove in studio. Oppure senza sigla. Sì, senza sigla. Sì, ma se faccio. No, scusate, ma sembra un po' ridicolo. Mai non mollare mai. E finché ce la fai. Però siamo in cinto, diamo più spazio per noi. Per parlare? Io però vorrei farlo il cazzo di ride here right now. E mo' come lo fai? Perché non c'è neanche bambi. Non si fa più. Lo farete nel tour quest'estate? Lo potete riproporre nel tour? No, non è quello. Io in inizio ho detto se esce anche solo uno di quelli che fa questo pezzo non si fa più. E vedi come si fa di voi quattro? Mi sono detto di farlo, rifarlo. A questo punto lo facciamo. Lo posso fare io opposto dei bambi. Eh, ma devi imparare tutta la cosa che fai. Ma tu stai male, bella mia. Ma guarda, io non ho problemi a farvi ballare. No, ma ti pare che faccio mai io. Io non ho problemi. No, è vero. Perché no? Perché dai, era bello perché comunque c'erano dei ballerini abbastanza bravi. Abbastanza bravi. Già con me? Molto bravi. A posto di santo perdeva tutto. Già è uscito santo, ci sta lei. È un po' uscito bambi. No, no, ma già con me perdeva tutto. Era proprio bello visto fatto da voi quattro, sinceramente. Sono un buffone, anch'io. Sono un buffone anch'io. E il silenzio del mio cuore impaurito mi ripete segretamente. Cioè mi ripete segretamente. Segretamente perché... Il silenzio. E il silenzio del mio cuore impaurito mi ripete segretamente. Se è di chicco, chicco, guarda la realtà. No, no, non penso sia chicco. Se è Patrick, Patrick. Un'ora arriva e ti prendo. Se è un buffone, sai che c'è? E lì vedrai Federico. Mi piace questa frase. Esatto. La trovo veramente appropriata. La trovo veramente appropriata. Era proprio quello che ci voleva. Cazzo, mancava solo quello. No, assolutamente no. Raga, ho un problema. Mi sei incrociato qualcosa, tipo dei nervi. Non riesco a... Si è incrociato qualcosa, tipo dei nervi. Non sto scherzando, non so cosa ho. Però ho un dolore qua fictissimo. Non so che cazzo ho. Aspetta. Non so cosa ho, non riesco ad alzare le parti sotto. Aspetta. No, mi fa male giù. È veramente scemo. Però tu allunga il colo, Mori, si scappa. Mi fa male, mi fa. Si scrosta là. Non è che qua sotto che mi fa male. Ho capito, ma se mi fai fare... Ora Francesca. Aia. Vedi? Ti si è cavallato mentre mangiavi? Se non mi fai... Sì. Fai così. Forse stavi respirando e fai... Franceschi, frattoschi, fai a... Fai così, tipo scocca e poi fai... E proprio mi sta parlando anche la lingua, la posizione della lingua. Deglutisci? Non riesco, mi fa male. Oh, se vedi che ti si tira indietro, diccelo perché te la dobbiamo tirare fuori, se no... No, aspetta. Cioè, che è? Non riesco neanche a muovere la lingua. Perché mi fa troppo male. Forse è la volta che stai un po' zitta, Franceschi. Ma va a cagare. Chiamiamo la redazione? È la lingua. Sì, la chiamo, la chiamo. No, vaffanculo, non esiste, sei fuori. L'ho capito. Ma va, sarà un nervo, però devo trovare il modo di farmelo passare perché veramente mi sta facendo male. No, perché mi... No, perché ti è passato da qui la lingua e dico, Dio, moglie, arriva alla bocca. Non mi è un nervo, scusa, eh. Non lo so, mi sta facendo, mangiando, mi è successo qualcosa, che cazzo ne so. Però non riesco più a mangiare. Sarà il pollo, io non lo mangio. Ma che? Non lo neanche mangiare neanche affatto in te che posso saltare. Il silenzio del mio cuore. Allora, ci vedi tutti così. È il pollo. Meglio?